Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere alcuni consigli di vita della grandissima e famosissima showwoman statunitense Oprah Winfrey, una delle donne più ricche e influenti del pianeta, che è nota per la sua filosofia di vita e il contributo che porta nel mondo, con la sua beneficenza e il suo talk show. Cominciamo subito guardando questi aspetti. Numero 1, l'intenzione viene prima dell'azione. Oprah parla di come l'intenzione che avete di fare qualcosa determini i risultati. Questo aspetto influisce notevolmente perché se intendete dare o servire con tutto il cuore, i risultati che avrete saranno incredibili in termini economici, morali, sentimentali eccetera. Ma se aiutate solo per guadagnarci o per ottenere fama o semplicemente apparire meglio negli occhi degli altri, questo non vi aiuterà ad ottenere quello che desiderate. Oprah consiglia di non spendere molto tempo a pensare quale sia il vostro sogno per la vostra vita, ma di cambiare totalmente approccio mentale chiedendovi quale sia il sogno che Dio ha per voi. Questo vi trasmetterà moltissima calma, serenità, amore, pace interiore e vi renderà invincibili. Numero 2, avete potere solo nel vostro territorio. Questo secondo me è uno dei pilastri più importanti della filosofia di Oprah e questo è un aspetto che molte persone confondono e finiscono per subirne le conseguenze. La stramaggioranza delle persone tende a voler controllare cose o territori in cui non ha alcun potere. Vogliono controllare la vita del marito, della moglie, dei figli, dell'azienda, della politica interna o internazionale del proprio paese eccetera. Si concentrano su tutto quello che non possono controllare, esprimendo giudizi, suggerimenti, ordini e si rifiutano di concentrarsi su quello che possono controllare totalmente, ossia la propria vita, quello che possono fare, avere, influire eccetera. Non ha importanza avere tutto chiaro in mente prima di cominciare. Potete scoprire tutto con il passare del tempo, mentre agite. L'unica cosa su cui dovete concentrarvi è il fatto che potete avere un impatto sulla vostra vita. Dovete essere consapevoli di questo mentre cercate di capire il vostro ruolo su questo pianeta, perché questo vi aiuterà a rendervi più ricettivi verso le opportunità, le possibilità, il vostro potenziale, quello che è possibile o impossibile per voi e lavorare con questi fattori per costruire una vita degna di essere ricordata. Numero 3 Non fate quello che vi dicono di fare, fate quello che vi sentite di fare. Dovete fare quello che pensate sia la mossa giusta. Fate quello che è giusto per voi. Cercate di decidere con la vostra coscienza. Non fatevi dirigere dagli altri. Siate il capitano della vostra barca e del vostro spirito. Questo vi trasmetterà un grande senso di consapevolezza e fiducia in voi stessi che vi aiuterà a raggiungere poi qualsiasi obiettivo. Numero 4 Trasformate le vostre ferite in saggezza. Non permettete che le ferite siano gli ostacoli al vostro progresso. Usatele per imparare, per trovare nuovi spunti, per trarre conclusioni, per fare le cose meglio in futuro, per crescere ed evolvere. Questo è l'unico modo per riuscirci, ossia attraverso la cura delle vostre ferite. Cercate di vivere la più alta espressione della vostra esistenza. Anche questo è un consiglio molto profondo. Questo deve essere l'obiettivo di ciascuno di noi. Ossia non conformarsi con l'idea che siamo di passaggio, ma avere grandi aspirazioni che potrebbero portarci ad essere immortali, perché potremmo vivere nei ricordi o nella coscienza dell'umanità per secoli e secoli grazie al nostro operato qui sulla Terra. Questa è una filosofia che ti porta effettivamente a vedere le cose diversamente, ti porta a pensare, ti sprona a dare di più e a voler raggiungere di più. Non ha importanza dove voi vi troviate in questo momento. Qual è la visione di voi stessi, la vostra espressione massima nella vita che vorreste in qualche modo realizzare nel corso della vostra vita? Cercate di aggrapparvi a quella visione. Numero 6. Il successo è essere a proprio agio con se stessi. Secondo opera, il successo non si misura con il denaro, ma con il grado di soddisfazione che ottenete da quello che fate nella vostra vita. Se vi sentite a vostro agio con quello che avete raggiunto, allora siete persone di successo, a prescindere dalla quantità di denaro che avete accumulato. L'importante, dopo aver raggiunto questo, è quello di continuare a pretendere il massimo e il meglio da voi stessi. Non ha importanza come gli altri vi vedono, quello che voi sentite e credete a precedenza. Numero 7. C'è un potere più grande di voi che dirige la vostra vita. Opera dice di credere in Dio. Secondo lei anche gli atei credono che ci sia una forza che dirige tutto, un'intelligenza infinita, un qualcosa che fa sì che tutto funzioni in modo naturale. La fede aiuta a muovere le montagne. Non c'è nulla che la fede non possa permettervi di fare. Cercate di diventare la migliore versione di voi stessi. La vita è un processo di crescita. Durante la nostra vita dobbiamo continuare a crescere il più possibile per raggiungere il nostro massimo potenziale. Dobbiamo sfruttare il tempo che abbiamo su questo pianeta per crescere il più possibile mentalmente, finanziariamente, moralmente, e raggiungere il nostro potenziale più alto. Ogni giorno che avete a disposizione, ogni respiro, è un dono che vi viene dato e che dovete sfruttare per cercare di dare valore alla vostra vita e a quella degli altri. Potete diventare la miglior versione di voi stessi semplicemente servendo gli altri. Martin Luther King diceva non tutti possono diventare famosi ma tutti possono servire. Purtroppo viviamo in un mondo in cui tutti vogliono diventare famosi ma pochi vogliono veramente servire. La fama svanisce con il passare degli anni ma il significato che diamo ai nostri servizi rimane. Il quaderno della gratitudine. Oprah consiglia di lavorare molto sul sentimento della gratitudine. Lei dice di scrivere ogni sera cinque cose che sono successe durante la giornata di cui siete grati. Questo cambierà la prospettiva della vostra giornata ma anche della vostra vita in generale. Riuscirete a creare quel senso di abbondanza e capirete che l'universo vi potrà dare sempre di più. Numero dieci. Fate quello che amate fare. Lavorare per guadagnarsi da vivere qualcosa di nobile che la maggior parte delle persone fanno opera compresa la quale ha dovuto lavorare per molti anni come giornalista ma quello che lei amava fare era presentare il suo talk show. Lei dice che facendo quello che amate fare non sarete mai stanchi non smetterete mai di lavorare e crescere e questo vi aiuterà specialmente nei momenti difficili trasmettendovi energia. Infine il fallimento è semplicemente la vita che cerca di muoverci in un'altra direzione. Questo è l'ultimo consiglio ma probabilmente il più importante. Lo rileggiamo il fallimento è semplicemente la vita che cerca di muoverci in un'altra direzione. Quindi se falliamo dobbiamo muoverci in un'altra direzione. non dobbiamo fermarci non dobbiamo buttarci giù non dobbiamo arrenderci. Il fallimento secondo opera non esiste. In quel momento è normale sentirsi male per qualche istante ma bisogna risollevarsi e ripartire e soprattutto imparare da quell'esperienza perché vi aiuterà in futuro ad affrontare meglio le difficoltà che si presenteranno. È fondamentale non rimanere delusi abbastanza a lungo da non potervi più risollevare. In questi momenti bisogna secondo opera pensare al passo successivo. Lei consiglia di sviluppare una sorta di GPS emozionale e morale al nostro interno. Questi erano i consigli di vita della grandissima opera Winfrey. Si tratta di consigli che riguardano prevalentemente il nostro approccio alla nostra spiritualità. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!